salve buonasera a tutti siamo qui dagli studi in roma dell'atleta lei siamo pronti per farvi vedere la finale per quanto riguarda la modalità foot quindi uno contro uno di fifa 21 ferrano peppe contro fradipi sarà una best of three qual è la cosa carina che qui abbiamo ora non diciamo che chi ti fa una squadra chi l'altra abbiamo un laziale eccomi e un romanista eccolo quindi per cercare ripeto il varco giusto e il modo di tirare attenzione perché questo è un gol di velè proprio lui finisce qui il minuto lancia fuori il pallone infatti finisce 1 a 0 per ferraro peppe ora ci andiamo a vedere il ritorno aveva preso la palla fradipi se non riuscì a tenerla neanche un po di nuovo carrasco verso cristiano ronaldo pelea spazio la prima pinta la seconda prova andare il tiro wow che gol spettacolare super in partita ferrano peppe l'avevamo detto stava veramente facendo il bello e il cattivo tempo sulla palla sembra che va bene sembra che proprio lui il tiro a giro bene sotto l'incrocio l'avevo detto tira giro lui lo sa fare lui lo fa 3 a 0 ferraro peppe bene al limite dell'aria prova ad entrare la finta di bene ma non c'è nessuno ad avanti a lui ancora pelea scatta il portiere e fa 4 a 0 chiara al sipario si alzano tutti in piedi perfetto detto questo quindi chiaramente non si fanno queste cose però hanno messo un risultato che non mi piace ma sarà finto se non è finto va bene quindi vi diamo anche l'informazione che alla fine del primo tempo la roma sta vincendo contro la lazio con un gol di mkhitaryan grazie per averci seguito se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale youtube non dimenticare di seguirci anche sui nostri social facebook instagram e twitch i link li trovi nella descrizione qui sotto ciao